Ciao amici di Facebox, siamo a Piazza del San Pietro a Roma, Vaticano, per l'incontro dell'associazione sportiva con Papa Francesco. Andiamo a vedere... Ciao amici, siamo a Piazza del San Pietro con il Papa Francesco nel festival del deporte. Tutto con il Papa! Приветствую вас, друзья Facebox. Сегодня мы ведем нашу передачу с площади Свитрового Петра в Риме, где Papa Francesco e il Vatikan organizzano il Dio Sport, su cui presentano molti culturali e sportivi assoziati di Rima. Итак, смотрите Facebox. Ciao, sono Alexander, un saluto dalla giornata dello sport, sono di H24 e un saluto a Facebox. Ciao, sono Giulia e un saluto a Facebox. Ciao, sono Sara, vengo dal Vatikan, siamo in Piazza San Pietro per una giornata di sport organizzata da Papa Francesco. Saluto gli amici di Facebox. Ciao, sono Giulia, ringraziamo il Papa per questa meravigliosa giornata e salutiamo gli amici di Facebox. Ciao, sono Magdalena, sono peruana, vengo di Como, qui in Italia, per il Dio Dio Sport che Papa Francesco ci ha venuto a recebire. Un saluto a Facebox. Allora, sono Anna Lisa, dalla parrocchia di San Giovanni Evangelista di Forlia. Tutti i fans di Facebox, pedalate fino qua, ne vale la pena. Un ringrazio a Papa Francesco, il Papa Argentino, il miglior del mondo. Seguitelo, ne vale la pena. Ciao, sono Aurora, siamo a Piazza San Pietro, qui io e i miei amici per questa bellissima giornata, per vedere il grande Papa Francesco. Un saluto a Facebox. Sono Dario Cincilla da Roma e oggi siamo qui per la giornata col Papa Francesco per lo sport. Saluti a ZXPOS. Saluti a ZXPOS. Ciao, sono Matteo, da società NSC Vole Imperia. Ringraziamo Papa Francesco per la giornata e un saluto da Facebox. Ciao, sono Serena, sono della San Camillo, sono qui a vedere Papa Francesco e saluto la Facebox. Mi chiamo Monsignor Claudio Pagamini, sul consulente nazionale del CFE fin da due anni fa. Voglio fare gli auguri di cuore per questo buon compleanno. Auguri a chi è dirigente e dà il tempo per che i figli crescano. Buon compleanno a chi è atleta, perché si diverte e si è gioioso. E anche a voi, amici di Facebox, un caro augurio. E anche per voi la festa e lo sport dino tanta, tanta gioia. E ora con Papa Francesco. 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 Sono Monsignor Orazio Sorricelli della dioce di Amalfi Cava dei Tirreni. Rappresento la sport, tempo libero e turismo della Campania. È stato un povericcio meraviglioso. La gioia, l'esultanza dei giovani. E poi le parole del Santo Padre hanno sottolineato il valore dello sport, dell'amicizia, della solidarietà. E soprattutto valore educativo che ci aiuta a crescere persone cristiane e buoni cittadini. Io mi chiamo Dino Meneghi. Ho giocato a pallacanestro a Finitalia per molto tempo. Oggi è una giornata speciale in San Pietro con un Papa Francesco, una persona straordinaria. 80.000 persone, forse di più, raccolte per festeggiare lo sport. Questo è il messaggio che arriva in tutte le case di tutto il mondo, ma soprattutto qui in Italia. Lo sport insieme alla famiglia e naturalmente alla chiesa aiuta i nostri giovani a diventare migliori. Peace and love! Ciao, sono Francesca Fialdini. Ho avuto il piacere di presentare questa giornata e mi è arrivata tutta la gioia di questi ragazzi che fanno sport e lo fanno per amare di più e per crescere in modo sano. E Papa Francesco con la sua benedizione ci ha riempito di gioia. Auguro tanta gioia a tutti voi. Grazie. Ciao Facebook. Ciao. Tutto Piazza San Pietro, Roma Vaticano. Grazie a Papa Francesco per questa giornata che ha regalato. Alla prossima puntata, amici di Facebox. Grazie a Papa Francesco, fu una giornata divina. Per il prossimo incontro, stiamo tutti insieme qui di nuovo. E quindi, il nostro spazio sport si è arrivato al fine. È stato un buon giorno, un buon giorno, un buon giorno. Ho spero che vi sia piaciuto la nostra spazia. E noi ci vediamo di nuovo. Vifiri.